benvenuti a questo nuovo appuntamento delle conversazioni su dante volute e organizzate come sapete dalla fondazione del corriere stasera abbiamo il piacere di ospitare giuseppe ledda professore di filologia dantesca e di letteratura italiana all'università di bologna dirò solo che ledda dopo una prima laurea filosofica si è dedicato agli studi letterari con grandissimi maestri come Ezio Raimondi Andrea Battistini e Cesare Segre ha insegnato nelle scuole secondarie ha tenuto dei corsi alla university of california e al dickinson college in pennsylvania è stato visiting professor a cambridge ovviamente non sto a elencare i tanti meriti di ledda che è membro dei centri danteschi di studio più importanti e dei comitati scientifici di riviste internazionali prestigiose a ledda si devono molti studi tra l'altro sulla religione l'esperienza mistica e la presenza della bibbia nelle opere di dante ma qui mi limito a segnalare che la sua lezione animali danteschi e bestiari medievali e anche il frutto di un suo notevole originale saggio pubblicato nel 2019 da longo editore e intitolato il bestiario dell'anima ricordo infine come sempre che tutte le conversazioni su dante ormai numerose sono visibili nel sito della fondazione del corriere della sera dunque nel dargli il benvenuto ringrazio giuseppe ledda e con lui saluto anche l'attrice valeria perdonò che lo accompagnerà leggendo alcuni brani della commedia vi auguro dunque una buona visione e una buona serata grazie grazie sono io che che ringrazio paolo di stefano per la generosa presentazione e per il graditissimo invito a partecipare a contribuire a questa prestigiosa serie delle conversazioni dantesche della fondazione corriere della sera ecco per questa serie ho proposto un tema che forse può sembrare un po strano un po originale un po particolare cioè gli animali danteschi in effetti non è la forse il primo argomento quello più importante nella nostra tradizione di studio nella nostra esperienza di lettura prima scolastica poi anche magari personale però se ci pensiamo con un po di attenzione in effetti la commedia pullula di animali è piena di riferimenti alle immagini gli animali fin dall'inizio il primo canto d'altra parte a quelle famose tre fiere che in realtà è un sintagma che dante non usa mai usa sempre il termine la bestia la fiera sempre al singolare no la famosa lonza che poi diventa un leone poi diventa una lupa tanto che si è parlato di una sorta di trinità metamorfica del male che si presenta all'inizio del poema con queste tre figure animali a cui risponde poi la trinità in qualche modo invece sincronica di lucifero conficcato nel fondo dell'inferno quindi questa triplice immagine del male all'inizio alla fine dell'inferno che però nella sua prima manifestazione è un'immagine animale dunque dante fin dall'inizio ci fa capire l'importanza del simbolismo animale dico simbolismo perché evidente che la lonza e leone e la lupa non stanno lì per la loro natura diciamo zoologica o per la loro identità naturalistica ma si portano dietro dei complessi simbolismi ora io non entrerò per nel grande dibattito secolare sulla significato di queste tre bestie però ecco mi sembra importante che dante ci segnali fin dall'inizio l'importanza di queste figure animali e poi già nel terzo canto abbiamo quelle delle figure di animali che svolgono la funzione di punire i dannati ricordati i cosiddetti ignavi termine anche questo che dante non usa oggi si usa definirli piuttosto i pusillanimi nel terzo canto che sono tormentati da mosconi e da vespe che li pungono provocano delle ferite sanguinose che mescolati al pianto scivola i loro piedi dove viene raccolto da dei fastidiosi cioè da dei schifosi vermi quindi le mosche le vespe i vermi un'altra immagine animale e poi lungo tutto l'inferno ricordate quante bestie sono elementi costitutivi dei mostri che svolgono la funzione diabolica di punire i dannati o di fungere da guardiani pensate già minosse che non è più il laustero e solenne giudice oltremondano delle nede di virgilio ma è diventato una figura animale bestiale che ringhia e che ha una mostruosa coda un elemento animale che trasforma demonizza la figura virgiliana e poi cerbero il cane con tre teste e tutti gli altri animali mostruosi le arpie il minotauro e così via quindi nell'inferno c'è questa dimensione indubbiamente diabolica del bestiario ma non è l'unica e commetteremmo un grave errore se volessimo generalizzarla e dare a questa chiave di lettura di una bestializzazione delle figure infernali un valore esplicativo generale in realtà la modalità principale con cui gli animali entrano nella commedia è quella delle similitudini non animali realmente incontrati o pezzi di animali che costituiscono figure mostruose certo c'è anche questo ma è un elemento tradizionale delle visioni dell'aldilà medievale in realtà la grande originalità nell'uso dei riferimenti animali nella commedia è proprio la similitudine se noi ci pensiamo già dal dal quinto canto dell'inferno su cui poi avremo modo di soffermarci incontriamo delle importanti similitudini animali nel canto di pole francesca e poi lungo tutto l'inferno e poi il purgatorio è particolarmente ricco di queste figure e persino nel paradiso anche per i beati si usano dei riferimenti ai pesci ai bacchi da seta agli uccelli come le pole o l'aquila o la lodola e perfino per gli angeli pensate che l'ultima similitudine animale del poema è riferita agli angeli nel trentunesimo canto sono paragonati a delle api e quindi vedete dalla dal primo canto sino quasi all'ultimo gli animali sono onnipresenti e dunque come come leggere questi riferimenti agli animali come interpretarli con un occhio naturalistico realistico scientifico sarebbe effettivamente forse un po improduttivo dal punto di vista della produzione del significato e sarebbe anche del tutto anacronistico rispetto all'atteggiamento con cui dante guarda alla natura e con cui usa nel suo poema i riferimenti naturalistici d'altra parte dobbiamo stare anche molto attenti a non prestare agli animali danteschi i nostri significati simbolici perché anche noi usiamo moltissimo l'immaginario animale per attribuire delle caratteristiche morali o dei comportamenti che diventano proverbiali e semanticamente produttivi nel nostro discorso parliamo dunque dell'astuzia di una volpe del coraggio della forza di un leone e così via potete pensare via via dell'innocenza delle colombe che sono simbolo di pace per esempio ecco stare molto attenti perché non è detto che il nostro simbolismo corrisponda al simbolismo dantesco ecco ma perché nel mondo medievale e non solo in dante esisteva una così ampia e attenzione nei confronti degli animali e del loro simbolismo ecco per spiegarlo ho preparato un piccolo piccola presentazione che ora provo a condividere se tutto funziona ecco credo che tutto funzioni regolarmente questa è semplicemente la copertina su cui subito andiamo oltre ecco perché dunque gli animali sono così importanti nella cultura medievale avete tutti sentito parlare dei bestiari da dove vengono i bestiari perché i bestiari sono così importanti così onnipresenti nella cultura medievale in latino nelle lingue volgari e nelle enciclopedie abbiamo sempre delle sezioni dedicate agli animali e che recuperano la cultura dei bestiari perché di animali era piena la bibbia e da lì che nasce l'interesse dell'uomo medievale nei confronti degli animali e della natura non dalla volontà di conoscere con un occhio scientifico come faremmo noi la natura i suoi elementi le sue caratteristiche ma dalla necessità di interpretare in modo attendibile ed efficace la parola di dio la parola sacra i testi sacri della bibbia la bibbia è piena di immagini animali per esempio quando il salmista david dice renovabitur ut aquile juventus tua si rinnoverà come quella dell'aquila la sua giovinezza e sta dicendo qualcosa di importantissimo che dobbiamo capire ma come facciamo a capirlo se non conosciamo la natura dell'aquila se non sappiamo il senso della frase che la giovinezza dell'aquila si rinnova in che senso si rinnova dobbiamo studiare la natura dobbiamo conoscere le caratteristiche della natura per comprendere il senso della bibbia ecco che da qui nasce il fisiologo che un'opera scritta prima in greco poi tradotta in tutte le lingue in latino in tutte le lingue conosciute che si diffonderà tutta l'europa e l'asia e nord africa verrà poi addirittura volgarizzata in decine di lingue europee avrà un enorme influenza sino almeno alla al cinquecento e al seicento ebbene però quest'opera il fisiologo che un po il capostipite dei bestiari si apre sempre e vedete questo il capitolo sulla bibbia sia sul sull'aquila si apre sempre con la frase della bibbia e poi la bibbia dice così ma da allora dobbiamo sapere che l'aquila si comporta in questo modo e dunque viene data la natura dell'aquila la descrizione scientifica naturalistica dell'aquila poi si ritorna al testo della bibbia si dice ecco che cosa vuol dire il fisile la bibbia quando dice che la la giovinezza dell'aquila si rinnova e che dunque anche la tua giovinezza si deve rinnovare come quella dell'aquila quindi diciamo si parte dalla bibbia si dà la conoscenza alla notizia scientifica naturalistica e poi si torna alla frase della bibbia che viene interpretata sulla base della notizia naturalistica che è stata offerta questa interpretazione può andare in un senso allegorico riferito cioè alle verità della fede in particolare in chiave cristologica oppure in senso morale cioè riferito alla e alle indicazioni di comportamento che questi immagini animali questi questi esempi animali offrono al cristiano che deve seguire un certo modello di comportamento se è positivo oppure fuggire un certo modello di comportamento tutti gli animali possono avere una ambivalenza simbolica una possibilità di lettura positiva o negativa a seconda dei casi ebbene io direi che dunque a questo punto possiamo con questa piccola introduzione leggere insieme il l'episodio che tutti conosciamo e amiamo di pole francesca almeno la prima parte non possiamo purtroppo leggerlo tutto in cui troviamo ecco vi prego di prestare attenzione ea oltre a tutte le cose belle che già conosciamo a queste tre immagini animali quella degli storni e delle gru e poi quella famosissima delle colombe quindi pregherei valeria perdono di di leggerci questo brano di inferno 5 or incomincian le dolenti note a farmesi sentire or son venuto là dove molto pianto mi percuote io venni in loco d'ogni luce muto che mughia come fa mar per tempesta se da contrare i venti è combattuto la bufera infernal che mai non resta mena gli spiriti con la sua rapina voltando e percotendo li molesta quando giungon davanti alla ruina quivi le strida il compianto il lamento bestemmian quivi la virtù divina intesica così fatto tormento enno dannati i peccator carnali che la ragion sommettono al talento e come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena così quel fiato gli spiriti mali di qua di là di giù di su limena non la speranza li conforta mai non che di posa ma di minor pena e come i gru van cantando l'orlai facendo in aree di sé lunga riga così vidio venire traendo guai ombre portate dalla detta briga per chi dissi maestro che sono quelle genti che laura nera si gastiga la prima di color di cui novelle tu vuoi saper mi disse quelli a lotta fu imperadrice di molte pavelle a vizio di lussuria fu si rotta che libito felicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta e le semiramis di cui si legge che succedette a nino e fu sua sposa tenne la terra che il soldan corregge l'altra ecco lei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di sicchio poi è cleopatras lussuriosa elena vedi per cui tanto reo tempo si volse e vedi il grande achille che con amore al fine combatteo vedi paris tristano e più di mille ombre mostrò mi e nominò mi addito camor di nostra vita di partille poscia che io ebbe il mio dottore udito nomar le donne antiche e cavalieri pietà mi giunse e fui quasi smarrito i cominciai poeta volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion si al vento esser leggeri ed elli a me vedrai quando saranno più presso a noi e tu allor li priega per quello amor che i mena e dei verranno si tosto come il vento a noi li piega mossi la voce o anime affannate venite a noi parlar s'altri non niega quali colombe dal disio chiamate con l'ali alzate e ferme al dolce nido venyon per l'aere dal voler portate cotali uscir della schiera ov'è dido a noi venendo per l'aere maligno si forte fu l'affettuoso grido o animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aere perso noi che tignemmo il mondo di sanguigno se fosse amico il re dell'universo noi pregheremmo lui della tua pace poi cai pietà del nostro mal perverso di quel che udire e che parlarvi piace noi udiremo e parleremo a voi mentre che il vento come fa si tace siede la terra dove nata fui sulla marina dove il po discende per aver pace cose guaci sui amor calcor gentil ratto s'apprende prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende amor cannullo amato amar perdona mi prese del costui piacersi forte che come vedi ancor non abbandona amor condusse noi ad una morte caina attende chi a vita ci spense queste parole da lor ci fuor porte grazie 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 a valeria perdono è un po un peccato mi sento in colpa a interrompere la lettura meravigliosa intensa e così coinvolgente di valeria perdono ma noi dobbiamo purtroppo concentrarci sugli animali non possiamo ecco ora farci incantare dalla retorica straordinariamente ammaliante di francesca e dobbiamo un pochino dunque ecco dissezionare queste immagini animali rischiando un po di rovinare l'effetto della poesia ma forse anche col tentativo di capire meglio dunque di salire a un livello ulteriore di comprensione della poesia stessa dunque abbiamo tre immagini animali abbiamo visto gli storni poi le gru e infine le colombe importante dunque l'episodio così così forte così significativo dante lo puntella con similitudini animali che è naturalmente richiedono l'attivazione anche di questo meccanismo di interpretazione simbolica che era comune nella cultura del tempo di dante ora sugli storni in realtà in realtà non ci sono nella bibbia non ci sono nei bestiari e quindi le tracce sono sono poche qua davvero dante ha in qualche modo preso questa immagine dalla sua esperienza comune tutti quanti abbiamo visto gli stormi di storni diciamo volare nel cielo autunnale e invernale e fare questa evoluzione straordinaria e diciamo le poche presenze nella cultura medievale nelle enciclopedie degli storni sono comunque in chiave negativa sono considerati degli uccelli gregari che vivono appunto in gruppi numerosissimi e rumorosissimi estremamente sporchi e in qualche modo la loro rumorosità e la loro sporcizia secondo alcune notizie si diventa ancora più 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 alta nel periodo dell'accoppiamento quindi ecco sono degli uccelli che hanno delle caratteristiche un po vaghe però tutte funzionali a rappresentare questa prima schiera di lussuriosi un po generici un po volgari privi di distinzioni particolari tutto il contrario delle gru che vengono invece indicate nella seconda similitudine per rappresentare la schiera delle anime invece suddivise una dopo l'altra in fila indiana come diremmo oggi una dopo l'altra appunto e sono quelli dei dei morti per amore le anime camor di nostra vita di partille e tra cui grandi grandi regine grandi imperatrici semiramide di donne e così via cleopatra elena e gli altri dunque personaggi straordinari poi tre due tre uno 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 ecco ci sono i due che attirano diciamo l'attenzione di dante dunque non la grande di donne o semiramide o grandi personaggi del mito ma questi qua perché sono insieme e da lì la straordinaria invenzione diciamo dell'episodio di paolo e francesca ma le gru ecco che cosa ci possono dire cosa dicono a un lettore medievale quali elementi naturalistici e simbolici attivano nella sua memoria le gru avevano una fama eccezionale sono tra gli uccelli più famosi più citati dai poeti dagli enciclopedisti dagli autori di bestiari e le notizie più importanti sono sostanzialmente due quelle legate al volo al volo un volo sempre ordinato preciso addirittura tale da formare immagini di lettere figure di lettere dell'alfabeto tanto che si diceva che addirittura alcune lettere dell'alfabeto greco siano state inventate imitando il volo delle gru da qui ecco la capacità di formare lettere parole e collegano le gru alla letteratura infatti vedete questo brano di ugo de folietto il de avibus un testo molto diffuso nel medioevo dove si parla di un ordine letterato cioè volano ordine letterato seguendo un ordine che forma le figure di lettere dunque questo è un primo elemento che per ora mettiamo da parte molto importante il legame con la scrittura e dunque potenzialmente con la letteratura ora noi sappiamo quanto nell'episodio di quale francesca si parla sì d'amore ma soprattutto di letteratura d'amore amor calcorgentirratosa prende che attiva la memoria di del legame tra amore il cuore nobile cioè gentile dello stil novo di guinizelli dello stesso dante sino poi alla citazione di lancillotto eccetera alla fine del del carto dunque si parla di letteratura quindi questo legame tra il gru e la letteratura è certamente un elemento pertinente ma invece da un punto di vista morale veniva interpretato un altro aspetto del volo delle gru il fatto che formando delle lettere o delle figure così ordinate molto spesso o nella formazione diciamo a v o nella formazione in riga e crea si crea una situazione particolare cioè quella per cui l'individuo dello dello stormo che sta davanti funziona funge svolge la funzione di re di sovrano di guida del del gruppo e però poverino fa molta fatica perché deve rompere l'aria deve emettere continui richiami per mantenere il contatto anche uditivo con gli altri membri del gruppo che rischiano di disperdersi tra le nuvole e dunque fa molta fatica come scusate in questi giorni c'è il tour de france quindi faccio questo riferimento ciclistico come un durante una cronometro a squadre ecco il corridore che è davanti fa molta più fatica a e dunque cosa fa quando è troppo stanco dopo 5 6 700 metri ecco cede cede la sua posizione e va in coda a recuperare e con lo stesso se mi passate questa ulteriore immagine fanno le gru perché come spiegano tutte le enciclopedie i bestiari sino ai tempi di dante il maestro di dante per esempio brunetto latini nel tesoro riprende anche questa immagine e le gru il il sono sono organizzati in modo che colui che guida la la schiera è come il re il capo del gruppo ma fa molta fatica dunque quando è stanco cede la propria regalità e questo è una cosa straordinaria c'è un sovrano che nel momento in cui si accorge che la propria il proprio esercizio della regalità non è efficace per la comunità non insiste non resta attaccato alla poltrona no diremmo noi ma invece cede a quello che viene dopo e questo diventa l'immagine per i lettori medievali di una società perfettamente ordinata in cui le posizioni di comando di guida vengono assunte per spirito di responsabilità e di servizio verso la comunità ma vengono cedute quando non sono più efficaci questo tanto in ambito politico quanto in ambito religioso perché spesso questi trattati naturalistici queste enciclopedie sono scritte anche per un pubblico di predicatori di prelati e quindi parlano spesso anche alle comunità monastiche e alle comunità religiose non solo a quelle civili e politiche anche nel momento del riposo le gru sono organizzate perfettamente dal punto di vista della di una società perfetta in cui gli individui si mettono al servizio delle dei propri compagni e però lo fanno sempre con senso di responsabilità e di preoccupazione che questo servizio sia davvero efficace dunque anche quando riposano tutte le gru dormono chiudono gli occhi vedete in questa immagine si vedono gli occhietti chiusi ma invece restano alcuni individui almeno uno che fa la guardia durante la notte ora per evitare che questo guardiano si addormenti e mettendo in pericolo tutto tutto il gruppo tiene una zampa sollevata nella quale stringe un piccolo sasso un sassolino una pietrolina in modo che se per caso cedesse al sonno ecco che rilascerebbe la pietrolina che cadrebbe nell'acqua dello stagno della palude risvegliando tutti e dicendo ragazzi questo è troppo stanco mettiamola a dormire e mettiamo un'altra guardia perché altrimenti siamo tutti in pericolo quindi vedete un altro elemento che fa vedere come le gru erano diventate un'immagine di una società perfettamente ordinata in cui gli individui assumono delle funzioni al servizio degli altri e poi le cedono quando non sono più efficaci potete ricordare o se non lo ricordate mi invito a leggere la famosa novella della sesta giornata del Decameron di Boccaccio dove Chichibio il famoso personaggio il famoso cuoco diciamo mette un po' in parodia ecco questo elemento delle credenze della cultura medievale della moralizzazione degli animali ma quindi ora non vi anticipo nulla vi lascio questa gustosa lettura della novella di Chichibio nel Decameron ma torniamo a noi torniamo ai nostri ai nostri alle nostre gru del quinto canto questa similitudine si riferisce l'abbiamo sentito a queste grandi regine Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena e poi Achille e poi Paride, Tristano grandi personaggi grandi condottieri grandi guide delle loro comunità imperatrici, regine, re ma cosa hanno fatto questi queste figure dotate di funzione e di potere regale hanno guidato il loro popolo verso la salvezza sono stati capaci di guidare verso la felicità i loro popoli oppure come ci fa capire Dante trovandosi tra i lussuriosi in cui coloro che sono definiti peccatori carnali che la ragione sommettono al talento cioè in loro la ragione che deve essere la guida dell'individuo è stata travolta e sottomessa dal desiderio dalla voglia dagli impulsi dalle passioni cioè costoro non sono stati capaci di guidare neanche se stessi verso la salvezza e hanno portato anzi cedendo alla lussuria alla rovina se stessi e anche il loro popolo dunque questo ci fa capire che se davvero vogliamo attivare come io credo sia opportuno e importante l'immagine delle gru per questa similitudine e dobbiamo farlo con modalità complesse il Dante non è una un riuso meccanico banale superficiale di queste immagini ma in questo caso possiamo definirlo un riuso di tipo parodico rovesciato cioè sono rappresentate come gru ma in realtà nella loro vita non si sono comportate come delle gru che guidano il proprio popolo e se stessi verso la salvezza come figure esemplari di regalità e poi abbiamo l'immagine invece delle colombe beh qui insomma speriamo che non salti fuori qualcosa di deludente anche da questa immagine perché noi siamo abituati le colombe che noi sono l'immagine della pace dell'innocenza della purezza indubbiamente anche nella cultura medievale esiste questa linea per cui le colombe hanno questo significato tuttavia è una lettura che nella cultura antica medievale è del tutto minoritaria perché invece se noi andiamo ad aprire qualunque bestiario qualunque enciclopedia qualunque testo medievale ecco che le colombe ci appaiono in una luce assai diversa le colombe sono considerate degli uccelli sacri a venere che praticano per farla breve una lussuria sfrenata frequenta il nido non certo con diciamo intenzioni pure e innocenti ma per praticarvi appunto una sessualità ossessiva eccitano il coito e l'amplesso con il bacio e quindi hanno anche questo elemento e anziché cantare si lamentano sono questi gli elementi che troviamo più diffusi nella cultura medievale relativa alle colombe addirittura il legame tra le colombe e la lussuria è talmente stretto e necessario che anche l'etimologia del nome viene viene collegata a questo elemento vedete columba sigdicitur qui a lumbos colit i lombi sono insomma una mettonimia per indicare l'attività sessuale l'atto sessuale e quindi questo esercizio dei lombi addirittura questo culto dei lombi indica proprio la 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 natura lussuriosa con così strettamente necessaria per la identità delle colombe tanto da essere indicata dal suo stesso nome ecco che dunque se ripensiamo adesso all'episodio il padre francesca che conosciamo bene e tutti tanti elementi acquisiscono un un legame perché anche il bacio anche il bacio di cui si parla alla fine del del quinto canto è un elemento definitorio dell'identità delle colombe anche nella nell'iconografia vedete è un elemento sempre sempre enfatizzato e poi il nido e le quattici nidos frequentant cielo la frequenza del nido proprio a finalità sessuali e tanti altri elementi insomma la lussuria e poi quello più è più evidente dunque per un lettore medievale ecco che le colombe sono un ovvio simbolo di lussuria perfettamente funzionale a quella lettura che nel 300 era del tutto ovvio e naturale cioè di padre francesca come due peccatori come due due lussuriosi giustamente dannati nell'inferno è venuta un po dopo ecco boccaccio che ha un po novellizzato l'episodio che gli ha dato una carica amorosa anche positiva affascinante cogliendo naturalmente da genio quale era boccaccio degli elementi che sono ben presenti nel testo dantesco che infatti poi la critica successiva ha valorizzato e dunque è stato diciamo dissodato chiarito e oggi è accettato da tutti gli interpreti la natura ambivalente complessa di questo episodio in cui troviamo da una parte la condanna morale religiosa dei peccatori di lussuria all'inferno ma dall'altra parte il fascino straordinario della cultura cortese che sta dietro questa concezione dell'amore che paolo e francesca vivono e dunque da questa tensione da questa ambivalenza che è talmente potente da far svenire lo stesso protagonista lo stesso dante personaggio anche per il coinvolgimento non solo della cultura amorosa ma della letteratura d'amore che si porta dietro ebbene da questa grande tensione emerge la forza della poesia di questo di questo canto e anche l'immagine delle colombe possiamo dire nel piccolo ecco mostra questa tensione questa dialettica vitale della poesia di dante cioè da una parte le colombe sono il simbolo della lussuria il riconosciuto indubitabile certissimo ma dall'altra ecco dante introduce un elemento di dolcezza fa in qualche modo percepire anche questo questa illusione di innocenza nell'immagine della delle colombe quindi nel suo piccolo questa similitudine restituisce possiamo dire la complessità la potenza poetica dell'intero episodio del quinto canto dell'inferno ancora più interessante è il fatto che alcuni animali sono citati più volte nella commedia tra questi proprio i colombi ecco da colombe diventano colombi ma la cultura zoologica non distingueva dal punto di vista naturalistico e simbolico in base al genere nel trattare di questi di questi uccelli e qui siamo nel secondo canto del purgatorio e ancora si parla d'amore o meglio di poesia d'amore ricordate in questo canto dante ha incontrato casella che ha intonato la canzone amor che nella mente mi ragiona e quando tutti ascoltavano incantati questa meravigliosa canzone è arrivato catone arrabbiatissimo e li ha dispersi perché non possono star lì a cantare a perdere tempo devono correre verso il purgatorio per liberarsi delle spoglie incrostate del peccato e potersi levare poi al cielo alla visione di dio e dunque ecco li mette in fuga come colombi come colombi ha ancora una similitudine vedete come colombi adunati alla pastura che stanno mangiando un cibo ma che può essere viado cioè grano ma può essere anche l'olio cioè zizzania sono un ambiguo cibo e in effetti se ci pensiamo questa canzone che casella sta cantando amor che nella mente mi ragiona potrebbe essere così star lì come una canzone d'amore che in effetti bisogna abbandonare per intraprendere il percorso purgatoriale ma in particolare è proprio una delle canzoni che dante interpreta nel convivio come una canzone d'amore non per beatrice ma per la filosofia e dunque forse questa è una lettura che è stata proposta che io condivido ma sulla quale c'è un dibattito tra gli studiosi perché implica attualmente un livello di interpretazione ulteriore è possibile che in questo in questo episodio in questa messa in fuga in questa interruzione in questa indicazione della natura parzialmente negativa che deve essere superata della canzone amor che nella mente mi ragiona dante sia riflettendo non più sulla poesia d'amore in generale ma proprio sulla sua esperienza particolare dell'amore per la donna filosofia che poi viene cantata nel convivio ma è naturalmente va bene la filosofia però bisogna stare attenti perché se diventa come nel convivio una passione esclusiva che nella quale si ritiene di poter trovare la piena felicità nella conoscenza terrena e filosofica ecco che può diventare qualcosa di pericoloso perché impedisce l'ascesa verso la conoscenza del divino che solo può dare la felicità e dunque ecco vediamo come ancora i colombi ritornano dunque nella riflessione sull'amore sulla poesia dell'amore e la pertinenza di questa lettura ci viene ecco confermata dalla terza occorrenza del dell'immagine dei colombi nel paradiso qua sono gli apostoli pietro e giacomo che dante incontra nel cielo delle stelle fisse e che ancora una volta vedete riprendono i due elementi da una parte l'affetto il bacio quasi dei colombi del quinto canto e che si 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 scambiano questo questo saluto affettuoso e tutto appunto l'amore che che c'è tra loro ma è un amore non più studioso ma un amore paradisiaco e fraterno e poi dall'altra il tema del cibo che non è più l'ambiguo cibo filosofico del convivio se vogliamo seguire questa lettura ma è il cibo che l'assuli prana cioè il cibo paradisiaco che è proprio la conoscenza del divino ora anche le gru anche le gru hanno una una occorrenza nel nel purgatorio ma prima di poter di poterla diciamo leggere insieme credo sia opportuno perché è l'ultima siamo nell'ultima cornice e viene al termine di un percorso degli animali purgatoriali che in qualche modo viene sigillato dall'immagine delle gru e quindi per comprenderla a mio avviso è meglio se torniamo un po indietro e seguiamo un po il bestiario del purgatorio ora il bestiario del purgatorio ha al centro una immagine molto strana l'immagine della delle talpe cioè dante si trova nella cornice degli racondi in cui è c'è un fumo densissimo che impedisce la visione forma una sorta di cecità temporanea per le anime poi nel momento in cui sta uscendo da questo fumo densissimo in cui anche lui non vede assolutamente nulla come le anime che sono lì li punite e purificate nel momento in cui sta uscendo dice al lettore con un appello al lettore all'inizio del canto quindi c'è una grande enfasi retorica per di più siamo nel canto centrale della cantica del purgatorio che ha 33 canti quindi 16 16 e in mezzo questo 17 quindi è un luogo di enorme importanza strutturale ebbene dice al lettore lettore se tu sei mai stato in montagna e sei stato in una nebbia fittissima dove non vedevi proprio nulla come una palpa non vede nulla a causa della pelle che copre gli occhi ebbene nel momento in cui sono andato un po più avanti invece ho ripreso a vedere ecco quindi ripensa all'immagine della montagna quando tu sei stato in una nebbia fittissima e poi invece sei giunto nel momento in cui filtrava un pochino il sole ecco io ero in quel momento lì ma l'immagine delle talpe viene utilizzata per indicare invece la prima fase quella in cui era in mezzo alla nebbia e non vedeva assolutamente nulla ora questa immagine mi ha dato tanto da pensare perché andando a esplorare la cultura antica e medievale le talpe vengono sempre considerate gli animali totalmente ciechi come dice Isidolo di Siviglia dannata cecitate perpetua e dunque un animale dannato alla cecità perpetua non può che essere un animale infernale cosa ci fa nel purgatorio la talpa e dunque insomma dopo varie ricerche ho capito che esisteva una tradizione a cui Dante probabilmente fa riferimento secondo la quale questa pelle che copre gli occhi delle talpe in realtà appunto è data da Dio per ricoprire questi occhi che sarebbero in sé capaci di vedere ma dato che l'animale vive sottoterra e non ha bisogno di vedere e anzi gli occhi sarebbero offesi dalle particelle della terra che potrebbero offenderli e ferirli gli occhi sono stati per volontà divina protetti ecco e chiusi da questa membrana da questa pelle ma dunque se gli occhi della talpa sono perfettamente formati e capaci potenzialmente di vedere e sono resi ciechi solo da questa pelle ecco che qualcuno ha pensato che questa pelle si possa rompere in qualche momento dunque la talpa possa passare dalla cecità alla visione e la più importante enciclopedia del 200 quella di Bartolomeo Anglico il Dei proprietà di Buserum diffusa in tutta Europa e anche in Italia in centinaia di esemplari manoscritti porta proprio questa tradizione secondo cui nel momento della morte a causa del dolore dell'angoscia dell'angustia della morte ecco che la la pelle che copre gli occhi si si apre si spacca e dunque gli occhi vengono liberati dunque la talpa ecco non è più come diceva Isidoro damnata a cecità di perpetua ma invece è destinata a un momento finale di visione a un passaggio dalla cecità alla visione attraverso il dolore ecco che questa è una perfetta immagine purgatoriale e infatti le glosse dei manoscritti di Bartolomeo Anglico che vedete hanno sempre nei margini delle glosse allegorizzanti o moralizzanti interpretano questa notizia in particolare con questa glossa nota quod penitencia aperit oculos quos claudit peccatum dunque ecco cosa vuol dire il passaggio della talpa dalla cecità alla visione è un'immagine della penitenza che fa passare dalla cecità del peccato verso la visione della salvezza e dunque diventa intesa in questa tradizione quella della talpa diventa un'immagine perfetta per le anime del purgatorio che sono in effetti dei peccatori che sono stati immersi nella cecità del peccato ma che poi grazie alla sofferenza penitenziale del purgatorio sono destinati a giungere alla visione paradisiaca ecco e da qui tante altre immagini del purgatorio si prestano colta questa chiave a una lettura nell'ottica del simbolismo penitenziale l'immagine degli sparvieri ciliati che viene utilizzata per gli invidiosi la ciliatura si praticava dai falchi agli sparvieri ne parla Federico II nel De Arte Venandi Cumavibus e diventa anche qui l'immagine del passaggio da prima da una visione selvaggia quella del peccato poi la ciliatura che si praticava perché i falchi potessero essere addestrati abituarsi al rapporto con con l'uomo con il falconiere e poi il passaggio a una nuova forma di visione una visione educata una visione dunque non più selvaggia ma sotto la guida del falconiere dunque diventa ancora l'immagine del peccatore che viene rieducato attraverso una forma di cecità penitenziale per giungere alla visione del paradiso ecco e da qui tornando indietro anche altre immagini del purgatorio si prestano a essere letti in questa ottica penitenziale fin dall'immagine bellissima della rondine della rondine e dell'aquila che troviamo proprio nel nono canto quindi nel canto che apre la rappresentazione del purgatorio ovvero proprio perché nei primi otto canti abbiamo incontrato le anime dell'anti purgatorio che sono in una condizione di attesa che ancora devono iniziare la il percorso purgatoriale quindi chiederei a valeria perdono se può leggerci così ci dà un quadro dell'episodio un po più ampio questo questa introduzione al sogno del dell'aquila che porta in sé anche l'immagine della rondinella grazie nell'ora che comincia i tristi lai la rondinella presso alla mattina forse a memoria del suo primi guai e che la mente nostra peregrina più dalla carne e men da pensier presa alle sue vision quasi è divina in sogno mi parea veder sospesa una guglia nel ciel con penne d'oro con l'ali aperte e a calare intesa ed essermi parea là dove furono abbandonati i suoi da ganimede quando fu ratto al sommo consistoro fra me pensava forse questa fiede pur qui per uso e forse d'altro loco disdegna di portarne suso in piede poi mi parea che poi rotata un poco terribil come folgor discendesse e me rapisse suso infino al fuoco ivi parea che ella e io ardesse e si l'oncendio immaginato cosse che convenne che il sonno si rompesse grazie ecco anche qua ci soffermiamo rapidissimamente su queste due immagini la rondinella che viene evocata per indicare con una perifrasi l'ora in cui arriva il sogno l'ora mattutina del sogno e l'aquila che costituisce sia pure un'aquila ovviamente simbolica con penne d'oro eccetera ebbene entrambi questi questi uccelli ma l'aveva già notato il mio maestro ezio raimondi in una meravigliosa lettura nata negli anni 60 addirittura del secolo scorso che è stata per me una delle guide per questo percorso di ricerca aveva già notato che entrambi questi animali hanno un simbolismo penitenziario nella cultura medievale della rondine si diceva che quando i rondinini sono accecati nel nel nido la rondine madre va a cercare una pietra oppure un'erba nelle diverse versioni che si chiama chelidonia e la porta nel nido la mette sugli occhi dei dei pulcini accecati e in questo modo restituisce loro la la vista e le glosse anche qui abbiamo messo il passo di bartolome anglico senza non il manoscritto ma semplicemente la 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 trascrizione della glossa nota de effectu penitenzi e quindi ancora una volta è la penitenza che appunto cura e fa passare dalla cecità del peccato alla salvezza e alla visione e lo stesso per l'aquila che torniamo all'immagine iniziale ricordate si rinnoverà come quella dell'aquila tua giovinezza cosa vuol dire beh se spiegava il fisiologo e poi ripetuto da tutti i bestiali di enciclopedia che quando l'aquila invecchia e le sue ali si incrostano si appesantiscono non riesce più a volare con facilità i suoi occhi pure si velano di una di una caligine e non riesce più a vedere perfettamente e dunque cosa fa cerca una fonte di acqua purissima e sale per quanto può verso il sole con le forze che gli sono rimaste nel volo per bruciare queste incrostazioni che impediscono il volo e la visione e poi si tuffa per tre volte nella fonte d'acqua purissima e riemerge ecco ringiovanita meravigliosamente e restituita nel pieno vigore del volo e della visione che sono le sue caratteristiche fondamentali anche qui le glosse le interpretazioni morali vanno nella direzione di nota de renovacione anime per penitentiam vel baptism quindi è un ovviamente un simbolo di rinnovamento che si può ottenere attraverso il battesimo ma per chi è già battezzato ma poi ahimè è caduto nel peccato questo rinnovamento si può ottenere attraverso la penitenza e quindi la rondine l'aquila posti all'inizio del purgatorio vero e proprio cioè il nono canto dell'inferno del del purgatorio indicano questa dimensione penitenziale che è centrale naturalmente per tutta la caratteristica e qui siamo all'ultima cornice finalmente vi dicevo delle gru ma nell'ultima cornice quella dei lussuriosi che quindi con perfetta circolarità la rappresentazione del dei peccatori dell'inferno si apre con i lussuriosi tra cui paola e francesca abbiamo visto tre immagini animali gli storni le gru e le colombe anche nel ventiseiesimo canto del purgatorio abbiamo tre immagini animali per rappresentare i lussuriosi che sono sono i primi nell'inferno sono gli ultimi nel purgatorio e abbiamo tre immagini quella delle formiche quella delle gru e poi una del pesce prime due quel pesce ci porterebbe troppo lontano ma quella delle formiche e della e quella delle gru che sono quelle per cui abbiamo mosso tutto questo questo lungo percorso ci interessa in modo particolare quindi chiederei ancora una volta a valeria perdonò se cortesemente ci può leggere questo episodio in modo più ampio in modo che poi possiamo soffermarci su queste immagini si mi parlava un dessi e io mi fora già manifesto se io non fossi atteso ad altra novità capparve allora che per lo mezzo del cammino acceso venne gente col viso incontro a questa la qual mi fece a rimirar sospeso lì veggio d'ogni parte farsi presta ciascun'ombra e basciarsi una con una senza restar contente a breve festa così per entro loro schiera bruna s'ammusa l'una con l'altra formica forse a spiar lor via e lor fortuna tosto che parton l'accoglienza amica prima che il primo passo lì trascorra sopra gridar ciascuna sa fatica la nuova gente sodoma e gomorra e l'altra nella vacca entra pasife perché il torello a sua lussuria corra poi come grue che alle montagne rife volasser parte e parte in ver l'arene queste del gel quelle del sole schife l'una gente se'n va l'altra se'n vene e torna lagrimando a primi canti e al gridar che più lor si convene grazie grazie davvero beh quindi avete visto un episodio anche questo molto movimentato in cui le formiche poi le gru servono per rappresentare i due momenti i due momenti fondamentali della scena siamo nella settima cornice l'ultima del purgatore in cui i lussuriosi sono distinti in due schiere tutti quanti sono immersi nel fuoco che circonda questa ultima cornice della montagna e devono correre per tanto tempo nel fuoco in qualche modo per purificare il fuoco amoroso e lussurioso in cui hanno bruciato nella vita adesso attraverso questo fuoco invece non più peccaminoso ma un fuoco purificatorio che li porterà appunto a eliminare le storie del vizio e del peccato e andare verso la salvezza ma la cosa sorprendente che mentre dante sta procedendo lui naturalmente resta fuori dal fuoco con delle anime che vanno in una direzione a un certo punto ecco che arriva un altro gruppo di anime nella direzione opposta quindi è chiaramente la cornice è circolare e quindi a un certo punto queste anime che vanno in direzioni opposte si incontrano quando si incontrano si scambiano un saluto fraterno come delle formiche e poi nel momento invece in cui ripartono ognuno nella direzione che stava seguendo prima vengono rappresentati come delle gru che partono in migrazione sia pure per direzioni contrarie opposte questi lussuriosi sono quelli omosessuali e quelli eterosessuali quindi dante qua si avrebbe tutto un discorso molto interessante che non abbiamo tempo di approfondire in ogni caso ecco utilizza queste immagini per rappresentare poi ne avremo una terza quindi anche la volontà di riprendere le immagini del quinto canto dell'inferno mi sembra evidente anche con la seconda immagine delle gru ma queste formiche, le formiche va bene le gru, vanno bene l'aquila ma la talpa già un pochino ci è sembrata forse non ce la ricordavamo neanche la prevenza della talpa ma le formiche insomma via che sono e qui di solito vengono citati dei Plinio in realtà parlava e poi i bestiali naturalmente parlavano molto delle formiche e sono sempre un'immagine molto positiva di assiduità, di lavoro, di operosità anche qui una società ben costruita eccetera ma questa immagine poi dello scambio dell'incontro, dello scambio delle informazioni ecco si diceva fai come la formica quando due si incontrano e uno sta portando un granello verso il formicaio quella che la incontra non gli ruba il granello ma anzi chiede da dove l'ha preso e quindi scambia l'informazione e va a cercarlo anche lei quindi ecco viene moralizzato in questo modo e di solito si cita questo poi se voi guardate i commenti che spesso aiutano a trovare la pista anche se poi non danno la risposta per alcuni sintagmi come Schiera Bruna per entro loro Schiera Bruna citano un passo di Virgilio dove si trova Nigrum Agmen ecco Schiera Bruna la spia è evidente ma si trova anche questa immagine della frettolosità dell'operosità frenetica delle formiche che si affaccendano per portare appunto il cibo nel formicaio ma il riferimento virgiliano che voi trovate nei commenti confronta Eneide IV beh Eneide IV ragazzi Eneide IV è il canto del libro di Didone quindi dobbiamo andare subito a leggere cosa sono queste formiche nel IV libro dell'Eneide queste formiche sono i troiani che nel momento in cui Enea dopo aver ceduto all'episodio lussurioso con Didone nel Medioevo e nel mondo tardo antico Dido id est libido anche dell'Eneide si dava una lettura moralistica e quindi l'episodio di Didone era la caduta nel vizio nel peccato della lussuria a cui poi per fortuna richiamato dagli dèi Enea riesce a sottrarsi per riprendere il suo cammino il compimento virile e della sua missione non il cedimento alla lussuria viene superato ebbene il momento del superamento è proprio rappresentato da queste formiche che sono i troiani i troiani che si affaccendano per caricare la nave da cui fuggiranno per appunto allontanarsi da Dido id est libido e per avviarsi verso il viaggio doloroso faticoso le guerre, le fatiche, le sofferenze ma che porteranno al compimento della loro missione e della missione soprattutto di Enea e dunque ecco che questa immagine delle formiche continua a sviluppare la riflessione attraverso le immagini animali sull'amore e sulla poesia d'amore e se ricordiamo Didone in effetti era proprio quella la seconda tra le anime che erano rappresentate come gru nel quinto canto la prima semidamide l'altra è colei che sancise amorosa e rupe fede al cenere di Sicheo e poi quando Paolo e Francesca escono dalla schiera cotali uscir dalla schiera ovè Dido quindi Didone è proprio il personaggio eponimo della schiera di Paolo e Francesco infatti poi ritornerà nel canto trentesimo nel purgatorio nel canti 8 e 9 del paradiso dove si parla del cielo di Vene insomma quando si parla di amore folle lussurioso e infine tragico si parla sempre di Didone e l'archetipo sempre presente alla mente di Dante già addirittura nella canzone così nel mio parlare voglio essere aspo dunque queste formiche virgiliane questi sono i troiani che fuggono da Didone dunque perfettamente aderente alla necessità per queste anime di fuggire dal vizio attraverso questo viaggio purgatoriale nel fuoco ed ecco che anche la seconda immagine quella delle gru rientra pienamente in questo in questa ideologia diciamo del viaggio penitenziale perché le gru erano considerate gli animali gli uccelli migratori per eccellenza e il loro e la loro migrazione era considerata una una figura della fuga dal vizio e del viaggio verso la salvezza e dunque ecco senza adesso avere purtroppo il tempo di approfondire pienamente questo percorso che le gru interpretate all'interno di questo bestiario penitenziale del purgatorio assumono un significato più pieno e potente infatti anche le gru le ritroviamo in paradiso dove possono recuperare pienamente la loro capacità di formare le lettere dell'alfabeto facendosi parola di Dio perché qui le gru diventano lettere dell'alfabeto che formano la sentenza di Ligite Justitiam Qui Judicatis Terram che apre il libro della sapienza e dunque diventano parola del testo sacro ecco se ho ancora un minuto abuso della vostra attenzione per tornare un attimo indietro perché se nel bestiario vero e proprio abbiamo le immagini di un bestiario compattamente penitenziale all'inizio del purgatorio abbiamo due immagini che sfuggono evidentemente a questo simbolismo l'immagine delle pecorelle ma d'altra parte è ovvio qua siamo non nel purgatorio vero e proprio dove le anime sono impegnate nella purificazione purgatoriale ma siamo prima siamo nell'anti purgatorio cioè dove le anime sono in attesa ancora non hanno iniziato la penitenza ecco perché qui non ha senso parlare di simbolismo penitenziale qua è un altro il simbolismo che viene attivato le pecorelle anche questa immagine famosissima sono i morti scomunicati tra cui i Manfredi certo c'è tutto forse l'immagine campestre ma insomma di pecore è piena la Bibbia il simbolismo pastorale è uno dei più potenti nel discorso sacro il Cristo buon pastore Dante lo poteva vedere non solo qua nei mosaici di Ravenna ma dovunque e dunque le pecore sono sempre il gregge è sempre il popolo di Dio il buon pastore e poi c'è anche un'immagine scatologica quella di Cristo giudice che divide le pecore e le capre le capre sono i dannati e le pecore sono i salvati ebbene questi sono dei peccatori ricordate Manfredi dirà orribili furono i peccati miei autori di peccati orribili come capre ma invece salvati come pecore quindi questa immagine delle pecore si sono peccatori ma sono pecore quindi sono peccatori salvati e qua forse veniva in mente al lettore medievale la più famosa pecora del Vangelo la pecorella smarrita la pecorella smarrita cioè il peccatore che Dio è andato a cercare sino all'ultimo per potergli concedere la possibilità della salvezza e Manfredi ne è l'emblema più potente proprio all'inizio del purgatorio orribili fono i peccati miei ma Dio l'ha illuminato nell'ultimo istante di vita e gli ha concesso la possibilità che lui ha accolto naturalmente del pentimento di provare il dolore per i propri peccati e di rendersi di abbandonarsi piangendo a Dio che l'ha accolto nelle sue grandi braccia grandi braccia e ma se questa immagine delle pecore ok riusciamo un po' a inserirla in questa diversa funzione dell'ideologia purgatoriale cioè quella dei peccatori che sono salvati possiamo dire pecorelle smarrite ma salvate ecco che ecco questa è l'altra l'altra l'altro testo evangelico ecco questo leone che viene attivato per sordello a guisa di leon quando si posa immagine famosissima poi si alzerà soltanto per abbracciare per abbracciare i virgili e da lì il dante poeta proromperà nella grande invettiva ai serra Italia di dolore o stella quindi anche lì nel sesto canto ci restiamo colpiti da questa grande invettiva della seconda parte del canto ma l'immagine di sordello come leone cosa ci può dire ecco non è solo un'immagine di maestosità di nobiltà ma per il lettore medievale il leone era aveva tante immagini bibliche ma quella più celebre era legata a questo versetto del Genesi dove ci si riferisce a Giuda figlio di Giacobbe come un leone che giace un leone che riposa e ci si chiede chi lo ridesterà chi lo farà rialzare quindi questo leone questo leoncino che giace e che riposa e che si rialzerà che si ridesterà diventa un'immagine di resurrezione immagine cristologica di resurrezione potentissima presente in tutta la cultura medievale addirittura è la pagina di apertura del fisiologo che si apre ovviamente sul leone che è il re degli animali e quindi il primo versetto biblico citato nella prima pagina del fisiologo è proprio questo in cui appunto Giuda figlio di Giacobbe appare come un leone giacente che viene poi ridestato e diventa naturalmente l'immagine di Cristo perché appunto il fisiologo spiega che i leoncini in effetti nascono morti ma dopo tre giorni arriva il padre e soffia su di loro il suo alito vivificante e ridà loro la vita e dunque abbiamo i codici medievali dei bestiari pieni di immagini come queste meravigliose in cui i leoncini vengono ridestati ecco che dunque anche questa immagine del leone possiamo dire rientra in questa diversa funzione delle immagini animali nell'antipurgatorio che è quella di indicare non la dimensione penitenziale del purgatorio ma invece la dimensione della salvezza a cui queste anime di peccatori sono destinati e la resurrezione che le aspetta grazie alla resurrezione architipica che ha reso possibile la resurrezione dei cristiani cioè quella di Cristo ecco con questa immagine di resurrezione di salvezza del leone chiudo questo questo mio percorso e vi ringrazio molto per la vostra attenzione e vi ringrazio